è uscito qua il buccano di porzia è andato a Collemaria che ore sono? sono le 17.55 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti E allora alle 17.55 è uscito con le mari, con le mare, e alle 18.00 in punto è uscito al suo posto. Va un po' lento qua. Alla prossima. Grazie. Grazie. Fa più di che dare foto in questi casi. L'11 giugno 2016. Grazie. 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 Grazie.